Il frontendo unico di filiale Cedacli unifica e nasce dall'esigenza nata dalle richieste del cliente per poter avere un unico applicativo di filiale e non solo, che permetta di poter avere una visione cliente centrica e che dia quelli che sono gli strumenti applicativi funzionali e di marketing soprattutto a disposizione di tutti quelli che sono gli utenti di filiale. Utenti di filiale, utenti della banca che quindi hanno a che fare con il cliente e che per il cliente devono merogare un servizio, servizio che deve essere il più possibile ritagliato a quelle che sono le esigenze del cliente stesso e i desideri anche a livello commerciale del cliente. Quindi nasceva l'esigenza di poter dare alle nostre banche clienti un applicativo che mettesse innanzitutto a fattor comune tutti quelli che sono gli applicativi di filiale, quindi non c'è una differenziazione né nell'accesso né nell'utilizzo del dato di filiale, ma anche e soprattutto che mettesse il cliente al centro dell'applicazione stessa in maniera tale da dare in un sol colpo d'occhio e in una visione assolutamente integrata tutte quelle che sono le applicazioni assolutamente disponibili oggi in filiale. Quindi integrazione delle applicazioni di filiale, disponibilità all'utente di filiale del profilo commerciale e di tutte le leve commerciali date a disposizione dell'utente di filiale nei confronti del cliente stesso per avere un'applicazione il più possibile ritagliata a livello di servizio sul cliente che è in quel momento davanti. Ma andiamo oltre, il frontend unico di filiale mette a disposizione anche una serie di servizi e di applicazioni commerciali che poi vengono declinate in un processo operativo che dà l'opportunità all'utente di filiale di poter lavorare in maniera operativa, in maniera assolutamente ingegnerizzata e generalizzata.